Ciao a tutti e ben ritrovati su Dragon Age Origins. Come già avevo anticipato la volta scorsa, oggi si va a caccia di elfi e quindi ci dirigiamo verso la foresta di Bracillian. A dire il vero, sto proprio cercando i Dalish. Parlerò solo con il vostro capo e con nessun altro. Parlerò solo con il vostro capo e con il vostro capo. Vabbè, vengo in rappresentanza dei custodi grigi. Mi chiamo Elis, è un piacere conoscervi. Sì, sembra che hai avuto il vostro capo e con il vostro capo. Sì, sembra che sei qui riguardo il trattato che abbiamo signato da anni fa. L'unico, potremmo non potremmo vivere con la promessa che abbiamo fatto. Questo potrebbe essere un'esplanazione. Sì, segui. 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 Non c'è modo di aiutare i vostri uomini. State parlando di un lupo mannaro? Sì. Sì. Avete detto che forse potreste spezzare la maledizione? Troverò io questo zanne lucenti. Qualcune domande da porvi? Come faccio a trovare zanne lucenti? Avete qualche consiglio da darmi? Vabbè, devo andare. Fate pure se volete. Sì, alcune sono più grandi di quanto l'occhio riesca a vedere. Di certo non hanno vita facile. Alcuni di noi sì, gli umani non sono tutti uguali. Cosa potete dirmi di Dathrian? Ha perduto molto? Che cosa? Che cosa fa un guardiano di preciso? Parlatemi di voi. Come avete fatto a unirvi ad Alice in un età tanto tenera? Mi dispiace, deve essere stato orribile. Avete detto che i Dathrian vi hanno salvato dai banditi? Sì? Sì. Non avevate? Non avevate altri parenti da qui tornare? Sì. 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 Come siete diventata una guardiana? Sì. 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 Ma voi non adorate il Creatore? Sì. 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 Allora gli elfi erano immortali… Ma potreste riacquistare la vostra longevità, no? Ora comprendo perché siete in collera con gli umani. Credevo che la vostra terra natale fossero le valli. E' stato il nostro secondo terra. Il nostro primo era la grande città di Arlathen. I Dales sono venuti quando erano liberati dall'esplosione. Gli Elvi di tutti i suoi vicini hanno avvenuto centri e cittadini di mele per i Dales, stavano iniziare a cominciare le loro vanno. L'ho chiamato la long walk. L'ho riuscita i Dales e hanno fatto l'esplosione. E uno giorno l'ho anche stata 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 presa. E ti ricordi perché siamo costali. Ma io non sono responsabile per quanto è stato fatto agli Elfi. Voi non siete ostile. Voglio chiedervi qualcosa altro. Anzi no, va. Devo andare. Questa bella chiacchierata introduttiva con questi Elfi ci ha dato più un'idea di com'è la loro cultura, la cultura appunto degli Delish. Tra l'altro mi sono portato a Zebron perché lui ha detto di avere origini Delish. Non l'ho mai portato qui, quindi ero curiosa di vedere se cambiava qualcosa. Nel frattempo noi gli mettiamo tutti i suoi punti in astuzia. Vediamo un altro punto in... Anzi no, non so se velenistra andiamo di stratega, va. Avanti. E poi ben tre punti, andrei subito in simulare morte. In realtà io furtività non la uso neanche mai. Vado di violenza. Non so se andare su assassino. Andiamo di assassino. Gioca. Adesso il giro per il villaggio Delish è un po' lungo. Direi che lo velocizziamo. Anderanatician, stranger. Io sono Athras. Ho spero che gli altri non erano troppo sospetti nel loro trattamento. Beh, erano tutti un po' sospettosi. Non mi sembrate molto felice. Vi prego, sarei felice di ascoltarvi. Non mi sembrano parlare con un sospettatore, ma... ...perhaps tu mi puoi aiutare. Ma mia esposa Danila e io, giocano i uomini in l'ambuscia. E' stata un po' lungo, la scuola spreada rapidamente in lui. Zathrian si tratta di difficile, ma non c'è un po' che si può fare. E mentre dice che Danila è morta, non mi farò vedere... ...la corpo. ...la cercherò nella foresta. La cercherò nella foresta. Formata di Marco Che sei inturarla? Ha scocato il fredato. Ti è sempre distinto nelfristone? Non, mi ha fatto Esattamente cosa fate qui? Io sono il clanzo di craftsmastero. E' la mia responsabilità di sapere quello che posso di sapere della storia antiche elveni della scuola di scuola e di ore. La verità, noi dalici non sappiamo poco della scuola di rispetto a quello che abbiamo fatto prima. E anche quello che sappiamo ci ha fatto molte volte per ottenere. C'è una scuola che, se trattata bene, è più difficile come stile, ma è molto più leggero. La scuola solo in questa foresta. Ironbock, il giocatore, ci ha scoperto di uscire in la foresta per ricostare la scuola. E se vi procurassi un po' di legno a ferro? Molto bene, una volta nella foresta darò un'occhiata in giro. E' un'occhiata. E' un'occhiata. E' un'occhiata. E' un'occhiata. E' un'occhiata presente che soltere la scuola di farンタà, o solo per coloro deve essere come poi scritto costruzate il saluto. Ma cosa stanno a passare il 천 utile förimo termini? Che queste le fanno Obviously è di parole. Hanno物 uno. E' un'occhiata che giocare al saluto? voi chi siete e perché non potete mettetemi la prova potrei sorprendervi orvuff or something I wanted to hunt in the forest but were forbidden to enter because of the attack but the real problem is gaina chi è Gayna? Deve pure esserci un modo per risolvere il vostro problema Forse potrei farvi da intermediaria con Gayna So essere alquanto persuasiva Tentar non muoce Facciamo un po' i cupido della situazione Voi siete Gayna, vero? Kamen mi ha parlato di voi Che avete rifiutato di concedergli la vostra mano Se lo amate cosa importa cos'è? Se lo amate allora abbiate fiducia in lui e aiutatelo ad avere successo Oh, tu stai vero! Mi ha fatto il poteo Kamen miserabile Non è vero che non può completare il suo cuore Ma Sirenas, grazie 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 Eh? Questo zanelucenti esiste ancora? Quindi ci sono tanti spiriti nella foresta? Ci sono state battaglie? Quanti licantropi ci sono lì? No one knows When the Shemlin lived in these parts The curse would spread anew to a few of them With each passing year They would run off into the forest Never to be seen again Eventually All the Shemlin left One assumes the werewolves survive By passing their curse to their offspring They have had no new blood Until now Oh, that is It changes as it wills Closing paths behind you And opening up new ones Too many have become lost within Unable to find their way out Were I you I would endeavor not to make the forest my enemy The Hala The Hala The Dalish call them their guides They even lead an elf to oblivion They even lead an elf to oblivion when he dies Or so they claim Who comes? Oh I beg your pardon stranger I was so busy attending to the Hala I did not hear your approach Cos'è un'ala? They are the noble beasts that pull our Aravel What humans call landships They are our companions And our guides La mia gente possiede mandre simile a queste Ma sono composta da cavalli I have seen your horses The relationship is different As is the purpose We ride the Hala But never with reins or a saddle It is the Hala who decide where to lead us And our privilege That they take our Aravel with them In return It's the Herder's job To speak to the Hala And care for their needs It's a bond of friendship And not servitude E come mai questo... Avete separato questa Hala dagli altri? I fear she may have been bitten During the werewolf attack I have tried speaking with her But she is too agitated for me to understand The curse would not affect her as it would us But it would still be lethal And it may prove contagious to the other Hala as well I can find no wound on her But... If she is truly ill then... Then I will have to put her out of her misery For her sake as well as that of the others So fare nulla per aiutarvi? I don't know Do you have any skills that might help her? If you do I would be grateful And? What do you think? Non riesco a trovare alcuna ferita Non capisco cosa abbia che non va I am glad you attempted it regardless Cerchiamo di calmarla No... No I'm sorry She isn't calming any more around you than she is for me Mi dispiace ho fatto del mio meglio I know It was kind of you to try Devo andare I will watch her for a while longer And see if her condition changes I am grateful for your assistance friend And... Abbiamo finito finalmente il giro per il villaggio Direi che possiamo addentrarci all'interno della foresta Questa puntata però è durata già abbastanza Quindi direi che io vi ringrazio per essere stati con me E vi saluto alla prossima puntata Dove andremo finalmente a fronteggiare questi lupi mannari Ciao a tutti!